Presentazione da parte del senatore della Lega Paolo Arrigoni del nuovo gruppo consigliare di Macerata composto da Andrea Marchiori e Francesco Luciani. Quello della Lega è un percorso di crescita in tutta la regione, in questa città, in questa provincia, una Lega che cresce perché da oggi farà parte della squadra della Lega a Macerata alla mia estrema destra Francesco Luciani. Francesco Luciani è il vicepresidente del Consiglio Comunale, segretario nazionale del COIR e lui è il rappresentante di circa 40.000 carabinieri a livello nazionale e lui insieme ad Andrea Marchiori rappresenteranno da domani, immagino, il gruppo della Lega in Consiglio Comunale a Macerata. Di fronte alle domande sul profilo del futuro candidato sindaco del centro-destra a Macerata, il senatore Arrigoni ha confermato come si tratterà di un candidato condiviso da parte della coalizione. Il candidato si, voglio dire, l'idea è quella di trovare una rosa di persone rappresentative del centro-destra, una persona competente di esperienza eccetera e sarà individuato concordemente con gli altri insomma. Primo punto all'ordine del giorno per Luciani, la sicurezza. Noi dobbiamo cercare di dare qualcosa ai cittadini, quella sicurezza anche percepita che alcune volte non c'è un'illuminazione in più, una telecamera. Mi ha fatto piacere qualche giorno fa, qualche settimana fa, che qualche giornale ha scritto che Macerata è capofila per quanto riguarda la videosorveglianza. Sai perché mi fa piacere Paolo? Perché dieci anni fa, il 12 di dicembre del 2010, una proposta, un ordine del giorno fatto dal sottoscritto. Ci abbiamo messo dieci anni, però forse ci siamo arrivati. Mi avrebbe fatto piacere che l'amministrazione comunale riconoscesse il ruolo anche al Consiglio comunale che ha lavorato per questo, cosa che non è avvenuta. Però tutto quello che ha fatto l'amministrazione comunale è inutile che ne parliamo, tanto i fatti parlano da soli. Noi dobbiamo cercare solo di andare avanti, io cercherò di dare tutto quello che posso in questa squadra e alla coalizione di centrodestra per portare finalmente Macerata a un sorriso con un bel sole, anche se oggi piove. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Grazie.